Ho scelto Inovero inizialmente perché mi avete dato fiducia nel modo nel quale ci siamo approcciati e abbiamo discusso un po' del progetto, cioè facendo anche nel preventivo una descrizione ben precisa di tutti i lavori da fare e anche consigliandomi su diverse attività che magari non avevo considerato di dover fare. Con il sopraluogo dei tecnici, quindi anche lì mi sono sentito supportato in queste valutazioni, ci siamo resi conto che c'era bisogno di fare l'impianto elettrico e in effetti abbiamo fatto bene diciamo di anticipare questa attività. Sì, infatti io avevo due problematiche anche su questi lavori, che per me erano lavori pesanti e che per me dovevano anche essere fatte in un tempo molto limitato ed essendo spesso all'estero avevo bisogno di un riferente unico. In effetti in questo caso tutti i lavori con i diversi tecnici idraulici, pittori e elettricisti si sono svolti l'uno dopo l'altro dovendo principalmente interferire soltanto con Inovero. Mi sono reso conto che senza questa attività globale avrei fatto molto più fatica anche nel poter ottimizzare i tempi tra un'attività e l'altra e questo l'ha fatto Inovero e in effetti alla fine i lavori si sono svolti nei tempi previsti e assolutamente nei limiti di quello che mi ero dato. È stata ripagata, ovviamente è sempre un salto nel buio quando si parte su un'attività che non si conosce, con persone di cui non si sa poco, però decisamente la fiducia che mi ha ispirato Inovero inizialmente si è concretizzata tutto a lungo del lavoro e quindi sono molto felice di questa scelta. Grazie, bene.